Benvenuti a tutti, sia a coloro che sono venuti qui in presenza, sia a chi ci sta seguendo da caso, dallo studio. Questo è un convegno che parlerà di prevenzione di incendi all'interno della fiera del condominio. Successivamente a me parlerà anche l'ingegner Limoni e introdurrà il convegno nello specifico. Io sono qui, oltre che a portarvi i saluti dell'organizzazione della fiera del condominio e del nostro ordine, anche vi presenterò il nuovo comandante di Verona, l'ingegner giudice, che si è insendato da circa un anno qui a Verona, che proviene dal comando di Sassari, ma che conosce già il nostro territorio. Siccome non ci sono state altre opportunità fino ad oggi per conoscerci, sfruttiamo anche questo appuntamento per presentare l'ingegner giudice comandante di Verona. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente Falsirolo della opportunità che mi viene data. Io per la verità l'ho colta al balzo, nel senso che è molto importante che ci si conosca, è meglio conoscersi di persona, però ovviamente saluto anche tutti coloro che sono in collegamento da remoto. È un'occasione per cominciare a riannodare quei fili che sono stati spezzati per effetto della pandemia, che insomma non ci ha ancora abbandonato. È un momento di, però, oltre che di conoscenza, è un momento di approfondimento tecnico, questo che l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Verona ha organizzato, un approfondimento tecnico sulla specificità dei condomini, quindi sulla loro complessità, con riferimento anche a degli eventi che sono accaduti recentemente e che hanno visto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco protagonista. Protagonista nel senso dell'intervento di soccorso, però il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per competenza istituzionale, è l'organizzazione che le norme tecniche le studia, le pubblica, le applica, le fa applicare e vigila sulla loro applicazione. Quindi capite bene com'è importante l'azione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed è importante la figura del professionista, perché il professionista è la prima interfaccia tra il Corpo Nazionale, quindi coloro che fanno tutte queste funzioni che ho detto, e poi la parte imprenditoriale o semplicemente la parte civile della popolazione che deve vivere questi ambienti, questi nostri edifici in tutta sicurezza. Quindi è con questa valenza molto importante di tutto quello che ho detto, quindi l'importanza di conoscersi per avviare un dialogo tra professionisti e la necessità di essere aggiornati su queste specifiche tematiche che rendono l'incontro particolarmente importante e rendono me particolarmente felice ed orgoglioso di essere stato invitato e di poter presentarmi a voi e rappresentare quindi il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona. Io vi ringrazio per l'attenzione, lascio la parola ai colleghi dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e poi ai colleghi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che introdurranno gli argomenti, anzi che tratteranno gli argomenti con la valenza tecnica che ci contraddistingue. Quindi bene, grazie e buon lavoro. Prima di passare la parola all'Ingegner Limoni, volevo anche far presente a chi ci segue della nuova collaborazione che ci sarà tra Orde degli Ingegneri di Verona e il Comando dei Vigili del Fuoco di Verona in merito ai corsi perché abbiamo deciso di dare un corso di aggiornamento costante e continuo nei prossimi anni basato in due modalità, seminari e corsi formazione, in modo tale da garantire nei seminari una formazione tra virgolette gratuita e il solito sistema invece per i corsi di formazione. Questo per far sì che non ci si trovi alla fine a dover recuperare 40 ore di formazione che avrebbe anche poco senso a livello personale nella propria formazione. Ecco, detto questo passo la parola all'Ingegner Limoni che è il nostro consigliere referente per la Commissione Prevenzione Incendi e presenterà il corso. Buongiorno a tutti, io porto i saluti istituzionali e ringraziamenti a chi, a quegli ordini che hanno contribuito a poter rilasciare i crediti formativi anche per i propri iscritti, quindi l'ordine degli architetti e l'ordine dei geometri. Ringrazio il comandante per la presenza, ringrazio anche i relatori che si sono resi disponibili per affrontare queste tematiche importanti che tratterremo oggi, che hanno a che fare anche con quelle riqualificazioni energetiche di cui ieri in questa fiera si è parlato, quindi legate al super bonus e agli incentivi proprio perché le riqualificazioni devono passare sì da un beneficio energetico ma anche con l'attenzione e l'occhio di riguardo a quanto riguarda la sicurezza della prevenzione di incendi. Mi riferisco alle chiusure d'ambito, mi riferisco alla tipologia di isolamenti termici che devono essere utilizzati in condomini di determinate altezze, all'utilizzo degli impianti fotovoltaici l'opportunità di installare colonnine di ricarica anche in autorimesse condominali quindi capiremo quali rischi possono esserci dal punto di vista della prevenzione di incendi. Il convegno appunto ringrazio i relatori, l'ingegner Mazzaro e l'ingegner De Rosa per essersi prestati a trattare puntualmente questi temi. Ringrazio inoltre la Gambino Editore che con noi ha collaborato alla realizzazione di questa fiera e a questi eventi formativi. Io cederei adesso la parola all'ingegnere Alberghini che è il coordinatore segretario della Commissione Prevenzione di Incendi dell'Ordine Ingegneri di Verona e proprio per chiudere queste presentazioni e entrare poi nel merito del convegno. Grazie a tutti. Bene, buonasera. Allora anche quest'anno abbiamo trovato la disponibilità dell'ingegnere Michele Mazzaro che dirige l'ufficio di coordinamento presso la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica con il ruolo di vicario del Direttore Centrale che tratterà in particolare il primo tema, quello della bozza di RTV per la sicurezza antincendio delle facciate e delle chiugure d'ambito degli edifici poi incendi da cammino, incendi da tetto e così via, il fotovoltaico come da programma in vostro possesso. Per le restanti due ore il relatore e il suo collaboratore di punta, l'ingegnere Armando De Rosa che tratterà più rapidamente autorimesse e impianti termici. Siamo onorati della presenza del nostro comandante provinciale, ingegnere Luigi Giudice man mano che la pandemia andrà smorzandosi, come è stato accennato ritorneremo anche ad eventi in presenza con i nostri Vigili del Fuoco di Verona come è nostra consolidata tradizione. Sui rapporti con i Vigili del Fuoco è appena il caso di confermare l'importanza del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi con la presenza anche dei nostri rappresentanti degli ordini degli ingegneri con cui ci interfacciamo anche tramite il coordinamento antincendio della Federazione Ordini degli Ingegneri del Veneto. La nostra commissione di Verona ha contribuito molto ad inviare osservazioni e note durante l'elaborazione di regole tecniche di prevenzione incendi trovando in generale un positivo riscontro. Quindi ringrazio anche chi fa parte della nostra commissione e invito anche altri ingegneri a volersi iscrivere e a volerne far parte. Ricordo che oltre alla firma all'ingresso per chi è presente qui occorrerà poi la firma in uscita e verrà somministrato un test. Il test verrà somministrato per chi è qui in aula, ve lo distribuisco io, ho il testo su carta. Chi è invece online, e sono molto più numerosi, riceverà tramite la piattaforma il modulo da compilare. Adesso c'è il momento dell'appello per chi è online, quindi noi qui staremo in silenzio per qualche minuto in attesa che dalla piattaforma H25 venga fatto l'appello perché noi qui non abbiamo il feedback per poter controllare, come fanno invece loro, la presenza degli iscritti. Quindi chiedo ai relatori, in particolare al primo relatore, di portare ancora un po' di pazienza perché c'è questo appello. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Bene. Bene. Finalmente possiamo iniziare. Allora vedo collegato l'ingegnere Michele Mazzaro, che saluto. La trovo anche ringiovanito rispetto all'anno scorso e quindi bene. Buon proseguimento ingegnere e buona relazione. Grazie. Grazie. Grazie a lei. Buon pomeriggio a tutti. Saluto. l'amico Luigi Giudice comandante di Verona ringrazio gli organizzatori di questo evento per questo diciamo ormai diventato un consueto invito e ringrazio l'ingegnere Alberghini perché insomma ogni volta insomma si presta a coinvolgerci nonostante tutte le difficoltà e credo che qualcuno caro ingegnere dell'ordine di Verona mi odierà in questo momento perché insomma li ho fatto un po' penare però vi dico veramente credo che il collega Luigi Giudice può confermare un momento un po' particolare anche per noi insomma per tante motivazioni organizzative ma anche legate agli ultimi eventi di rimparsi eccetera eccetera bene la mia chiacchierata di oggi ecco vuole andare ancora una volta nella direzione della prevenzione incendi dei condomini partendo un po' da alcune cose per chi mi ha per chi ci ha seguito ma io credo che come dire ripetita come dicono i latini ci ha seguito l'anno scorso quelle cose sono delle ripetizioni però ci sono fondamentali per comprendere dove sta andando dove si sta andando con la prevenzione incendi in relazione ad attività che sono di specifica competenza di chi si trova anche a gestire ad amministrare dei condomini quindi ecco partendo da le norme canoniche relative agli edifici di civile abitazione che rivedrei più che altro per evidenziare una discresia che credo che negli ultimi tempi dovrebbe essere saltata agli occhi un po' degli addetti ai lavori e nonostante le nostre segnalazioni purtroppo si è giunti a quella che è una cosa che probabilmente ecco non è proprio un ottimo nella gestione della prevenzione di incendi la vediamo tra un attimo facendo un passaggio con ecco un discorso delle facciate su questo discorso ecco darò delle informazioni soprattutto relativamente alla RTV delle chiusure d'ambito che sta per andare in Europa quindi insomma probabilmente avremo una nostra norma però ecco mette in evidenza anche alcune attività che stiamo facendo come ringe il fuoco anche come attività sperimentali e chiuderei poi parlando di fotovoltaici e facendo anche un cerno a quello che è un'attività che negli ultimi anni almeno personalmente mi ha molto coinvolto che è quella relativa all'economia di ricarica direi che per il tempo che abbiamo a disposizione non c'è non ho tantissimo tempo per fare tanti approfondimenti però ecco volevo almeno dare degli stimoli a a a a chi sta ascoltando a chi ci sta a chi sta seguendo questo webinar in maniera valuta poter consentire poi a loro stessi di poter fare degli approfondimenti successivi perciò partirei partiamo al solito dal decreto del 29 gennaio del 2019 decreto che va a modificare il la vecchia regola tecnica verticale che lo ricordiamo sul sul relativa agli edifici di abitazione del decreto del 16 maggio del 1987 numero 246 e poi attraverso una serie di altre di altre valutazioni ecco ci ci si si potranno comunque fare delle 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 passando attraverso la RTV degli edifici civili anche questa RTV pensata messa giù modalità codice quindi codice di prevenzione incendi anch'essa diciamo in fase di pubblicazione perché anch'essa deve andare sta per andare in Europa insieme a reclusione d'ambito e poi fare ecco un passaggio attraverso in guida sulle facciate è importante questo passaggio perché all'indomani del dell'evento avvenuto a Milano della insomma fine fine era il 30 di agosto quindi di qualche di qualche un mese e mezzo fa praticamente sembrava quasi che non avessimo delle norme di prevenzione incendi in relazione alle facciate ma ecco volevo evidenziare a coloro che stanno partecipando a questo questo webinar che non è proprio così perché il decreto del 25 gennaio 2019 dà comunque delle indicazioni che potremo a vedere e che ci danno la possibilità di poter ricorrere le linee guida le vecchie linee guida del 2013 sulle facciate ma anche ecco fanno un'apertura da un'apertura del 2019 all'elettività di chiusura d'ambito e poi vedremo con le sue specificità con quello che c'è cominciamo subito ecco quando parliamo di prevenzione di incendi ecco in genere noi fissiamo la nostra attenzione su quelle che sono le cosiddette attività soggette ai controlli di prevenzione di incendi e sono come ben sapete le attività dell'allegato uno del DPR centocinquantuno del 2011 in particolar modo in questo caso stiamo parlando di attività ex novantaquattro del decreto sedice ebbraio tantadue attualmente attività numero settantasette del DPR centocinquantuno del 2011 anche su questa cosa potremmo dire delle cose delle dare delle informazioni perché perché ecco gli addetti lavori sanno che uno degli dei dei forse il primo ccts di quest'anno praticamente febbraio 2021 finalmente abbiamo licenziato il l'aggiornamento del del DPR centocinquantuno dell'allegato 1 al codice e abbiamo quindi ricatalogato le attività abbiamo detto anche qualcosina sul sugli edifici sull'attività settantasette abbiamo cercato di portare la maggior parte dell'attività dalla categoria C e B in categoria A per consentire praticamente quella che è poi il l'obiettivo che ecco della di una pubblica amministrazione che potesse consentire di di andare subito ad esercire un'attività con una scia la cosiddetta scia in un giorno va bene però diciamo che come si dice avendo avendo riferimento lo stato normativo lo stato giuridico vigente esiste ancora questa classificazione si spera se ne ha provato in uno dei decreti di semplificazione non si è riusciti probabilmente in uno dei prossimi ecco facendo un iter che è un iter canonico previsto presso le commissioni per parlamentari perché il DPR 151 essendo un DPR deve comunque eseguire un suo iter particolare specifico previsto dalle norme giuridiche di quel rango bene probabilmente avremo anche in quel caso una riclassificazione una ricatalogazione delle attività e quindi un nuovo DPR 151 che ripeto come corpo nazionale abbiamo già messo giù ed è stato già lo stesso approvato in ambito CCTS però questo per dirvi attenzione signori stiamo parlando di attività soggette attività che sono soggette quando hanno un'altezza antigenio superiore a 24 metri attività 77 legato 1 DPR 151 è importante questa cosa certo perché dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando è sotto i 24 metri bene sotto i 24 metri non è un'attività soggetta però per esempio il decreto ministeriale 246 dell'87 comunque si poneva dei problemi si poneva dava delle indicazioni ancorché minime e anche noi dovremmo dare dovremmo porci come progettisti degli obiettivi di sicurezza anche nei casi di edifici di altezza inferiore ovviamente sono delle valutazioni che ne riscono in particolar modo la valutazione del rischio fatta dal progettista e non hanno caratteri di congenza come quelle da vista dalla morte allora un primo punto questo c'è perché insomma poi è la domanda tipica che si fa in tutti i test per questo soprattutto per chi di voi dovrà fare il test finale ecco noi siamo passati parliamo di altezza antincendi ve lo ricordo altezza antincendi che si aveva 24 metri attività 77 di PR 1951 attività 94 di 82 parlava di altezza in gronda quindi sono due cose diverse praticamente ecco la cosa particolare è che l'entropia cresce come si dice se noi andiamo a considerare che la definizione di altezza antincendio nel codice di prevenzione di incendi che gli addetti ai lavori lo sanno sicuramente ma lo ripeto il beneficio di chi non è addetto ai lavori è diversa da quella presente comunque nelle norme precedenti e quindi una prima considerazione qual è l'altezza antincendi del 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 dm sedici sedici maggio dell'87 ma è sicuramente altezza massa misurata a livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile a livello del piano più basso la definizione del decreto ministeriale 30 novembre 83 è ancora vigente per certe attività e che vedete è quella che regolamenta l'attività 77 del dpr 151 ovviamente se andiamo a parlare col codice la definizione è diversa perché la massima quota dei piani dell'attività non più dall'apertura ma dalla quota del piano e quindi ci potrebbe essere un leggero disallineamento ecco andando avanti nel tempo si andrà comunque ad eliminare questo disallineamento vi dico già subito vi preannuncio che per esempio nel nuovo dpr 151 nell'allegato rivisto quando si parla di altezza antincendio si fa riferimento all'altezza antincendio prevista dal codice non più quelle del 30 novembre del 1983 quindi questo è un aspetto importante che ne è presente diciamo che la differenza non è tantissima però potrebbe essere importante per vedere se annoverare o meno un'attività come attività al soggetto o meno soprattutto quando ci troviamo nelle condizioni borderline quando parliamo di misure ecco di prevenzione e protezione a questo punto dobbiamo fare una serie di ragionamenti e cominciamo a fare dei ragionamenti i ragionamenti sono quelli che poi hanno portato al decreto del 25 gennaio 2019 vi ricordate l'hanno visto anche l'anno scorso rivediamo quest'anno in genere il decreto i decreti nostri soprattutto fino a inizio primi anni 90 95 96 ecco diciamo diciamo che il forse dal 94 95 in poi c'è un discrimine importante però i nostri decreti hanno decreti che andavano soprattutto ad enfatizzare gli aspetti delle misure di prevenzione quindi che hanno la necessità di andare ad intervenire su quello che era la possibilità che avvenisse l'evento quindi su quello che è ecco la andare a limitare l'evento e sul danno quindi limitare la magnitudo quindi misure che arrivano sulla frequenza dell'evento e sulla magnitudo dell'evento senza enfatizzare tantissimo le misure di carattere gestionale ora che cosa è successo è successo perché siamo arrivati a questo decreto insomma giusto per per dare dire qualcosa anche di diverso rispetto alla solita chiacchierata ecco vi ricordate qualche tempo prima rispetto all'emanazione di questo decreto c'era stato un incendio importante quello da Greenfield Tower a Londra un evento che aveva evidenziato soprattutto dei limiti di natura gestionale considerando il fatto che delle persone erano morte come ben sapete perché gli era stato ordinato di rimanere all'interno degli appartamenti e non uscire senza fin quando non avessero ricevuto l'ordine di evacuazione da parte di un responsabile dell'evacuazione stessa allora a quel punto anche noi ci siamo resi conto che mancava mancava nelle nostre norme soprattutto in questo decreto del 1987 un importante riferimento agli aspetti gestionali ci sono ci sono le misure di prevenzione di protezione ma le misure gestionali non sono per niente previste e a quel punto nasce la necessità di mettere giù questo decreto del diciamo che va ad aggiornare ad integrare il decreto del 1987 con degli obiettivi che poi sono quelli riportati nel cosiddetto preambolo legati quindi all'evoluzione dei criteri della materia di prevenzione di incendi soprattutto vi ricordo che risente molto già della prima versione del codice versione di M 3 agosto 2015 ma anche di tener conto anche del fatto che nell'ultimo tempo si stavano sempre affermando l'utilizzo di tecniche costruttive di prodotti da costruzione innovativi e quindi diventava sempre più preponderante anche fare un riferimento agli aspetti gestionali questo decreto è andato in vigore il 6 maggio del 2019 poi vedremo faremo alcuni commenti io non mi so fermo più di tanto se no veramente nel breve tempo che ho a disposizione non riesco quindi mi scuserete se alcune cose ve le farò vedere proprio velocemente però sono diciamo funzionali a rendere un po' l'idea della nostra chiacchierata come viene impostato questo decreto vi ricordo questo decreto viene impostato in analogia al capitolo S5 del codice capitolo di gestione di sicurezza antincendio introducendo una cosa che poi è la modalità di implementazione delle misure previste a cui di prevenzione di incendi che rappresentano dai livelli di prestazione legati a quale aspetto l'aspetto di pericolo aspetto importante in un edificio di cilabitazione sicuramente l'altezza antincendio quindi più alto più è pericoloso ovviamente oltre a tenere colmo ovviamente anche del fatto che magari presenza di persone con certe abilità o che non abbiano certe abilità in caso di esodo e avendo come soluzioni conformi ecco quindi vedete già un linguaggio mutuato dal codice codice che parla di soluzioni conforme soluzioni alternative soluzioni interroga bene soluzioni conformi che vengono diversificate in funzione di quale parametro come vi dicevo prima dei livelli di prestazione quindi dell'altezza antincendio dell'edificio ovviamente è prevista una deroga esenzia articolo 7 di PR 151 vengono introdotte delle definizioni nuove ma anche in questo non soffermo più di tanto vorrei giusto soffermarmi soffermarmi su questi quattro livelli di prestazione legati vedete all'altezza da 12 a 24 metri da 24 a 54 metri da 54 a 80 metri maggiore di 80 metri perché è importante questa classificazione perché poi è la stessa classificazione che abbiamo mutuato nella RTV degli edifici civili quella che sta per andare in Europa e che quindi praticamente rappresenterebbe a quel punto mutuando gli aspetti gestionali presenti nel decreto del gennaio 2019 e andando a legarli anche a misure di prevenzione e protezione va praticamente a trasformare ha trasformato questa regola tecnica tradizionale in una RTV pensata messa giù elaborata in modalità codice questo box ci dice una cosa importante guardate nel caso in cui all'interno dell'attività ci siano delle attività soggette quindi di compresa legatura di Piero 151 ma non pertinenti quindi per esempio che non siano autoimesse che non siano gruppi elettrogeni che non siano impianti di produzione di calore quindi che non siano comunque attività che siano legate all'edificio all'edificio di altezza antigenio superiore di 24 metri si va automaticamente dal livello di prestazione al livello di prestazione superiore per farla per chiarirla insomma se io ho una palazzina da che ne so 20 metri dovrei avere un L più un livello di prestazione zero ci richiede poco impegno dal punto di vista gestionale se all'interno di questo edificio cioè ci sono attività soggetti di PR 151 comunicanti con l'edificio ma non pertinenti con lo stesso vado direttamente alla prestazione superiore questo per tener conto di quello che ecco un modo per tener conto di quello che è un eventuale aggradio del rischio che non riesco a compensare non ho compensato magari con misure di tipo impiantistico quindi protezione attiva o anche protezione passiva o anche con misure di prevenzione quindi vado direttamente ad implementare un livello superiore di misure gestionali per andare a compensare questo livello di rischio giudice ecco questa slide diciamo raccoglie un po' le novità gli aspetti presenti in questo in questo decreto vedete se noi prendiamo il livello di prestazione 1 come livello di riferimento il livello di prestazione 0 non prevede misure anche incendie preventive l'organizzazione della GSI e l'ingresso dei controlli quindi praticamente da 12 a 24 metri devo fare pochissima roba insomma devo praticamente mettere un foglio informativo gli occupanti devono avere delle non devo occupare non devono non si era alterare la possibilità delle vie di esolo insomma sono delle cose molto semplici invece con il livello di prestazione 2 prendendo sempre riferimento di prestazione 1 è necessario un impianto di allarme manuale con il livello di prestazione 3 andiamo edifici di tipo 3 e di tipo E quindi con altezza di vincenio di oltre 80 metri si va con l'impianto EVAC con la gestione dell'emergenza con il centro di gestione dell'emergenza e con responsabile della GSA quindi la gestione di sicurezza di incendi e un crescendo in funzione dell'altezza ripeto non mi soffermo più di tanto perché sono cose che si comprendono però era importante volevo darvi ecco volevo ricordarvi le motivazioni che hanno portato a questo decreto ora mi consentite il volo pindarico e di andare direttamente quindi abbiamo al riferimento livello di prestazione 1 e abbiamo visto come gli altri livelli di prestazione si evolvono rispetto a livello di prestazione 1 con livello di prestazione 0 che ci richiede meno per cose e con livello di prestazione superiori 1, 2, 3 2, 3 praticamente che vanno vanno praticamente a chiedere molte cose in più bene qua c'è un primo una prima cosa da mettere in evidenza l'articolo 3 del decreto dice dice in maniera pacifica gli edifici esistenti vengono adeguati entro i seguenti termini cominciamo primo termine parto da sotto un anno dalla data del brato in vigore del decreto quindi 6 maggio 2020 per le restanti disposizioni rispetto a che cosa le restanti disposizioni sono quelle restanti diciamo in complemento a 1 rispetto alle disposizioni riguardanti l'installazione ovvero prevista degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza benissimo e fin qua ci siamo ci siamo ma qual è il problema il problema che è il legislatore ha prorogato questo primo termine che è molto più semplice perché riguarda la cartellonistica riguarda l'organizzazione diciamo la parte gestionale vera e propria mentre il secondo punto riguarda la parte diciamo più impiantistica quindi diciamo più esoso dal punto di vista economico ma anche più esoso dal punto di vista progettazione e dell'impatto anche sul sul condomino diciamo perché potrebbe avere più disagio da questo tipo di lavori però che è successo? è successo che il legislatore ha prorogato come vi dicevo fino a la solida proroga i famosi 90 giorni dopo la fine dell'emergenza il termine del discadenza dell'anno però non ha prorogato i due anni per cui al 6 di maggio 2021 questo secondo termine è scaduto perciò quello che deve essere il diciamo l'adeguamento più pesante e signori andava fatto al 6 di maggio 2021 mentre quello più leggero è prorogato ci troviamo quindi di fronte ad una situazione in cui la cosa più difficile va fatta prima della cosa più semplice ed è quello che è successo meno noi riusciamo a spiegarci come sia voluto succedere perché nel momento in cui ci hanno chiesto i pareri per le prove abbiamo comunque evidenziato questa discrasia questa possibilità che poi puntualmente si è avverata ecco poco male perché perché il vantaggio di questa norma credo ci dice l'articolo 3 è che gli adempimenti di prevenzione di incendi per gli edifici esistenti non devono essere dichiarati con una presentazione di scia con una segnalazione ma vengono praticamente comunicati al comando all'atto della presentazione dell'attestazione di rinno per le ore di conformità di incendi quindi il vantaggio che c'è praticamente è legato al fatto che non va affatto una segnalazione ma al momento nel momento in cui viene presentata viene presentata l'attestazione di nuovo periodo di conformità di incendi quella dell'articolo 5 di pr151 viene comunicato anche l'avvenuta esecuzione dei lavori previsti da 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 questi commi dell'articolo 3 problema problema qual è se put a caso succede che quindi non c'è una un'urgenza a meno che non ci sia scadenza della scia quindi non ci sia necessità di fare il rinnovo problema ecco se il put a caso l'edificio viene coinvolto l'incendio l'estazione particolarmente anche una cosa ecco anche una cosa non un incendio diciamo conclamato tipo Torre dei Mori ma una cosa anche più semplice comunque c'è una valutazione a quel punto si troverà che ecco che i lavori non sono stati fatti e quindi potrebbe essere un problema per chi non li ha fatti soprattutto per l'amministrazione l'amministratore di fondamentale allora questo è è la prima parte ovviamente questo ha portato al alla RTV gli edifici di l'abitazione io qua l'ho lasciato ancora con come capitolo V10 ma non sarà più V10 perché siamo già arrivati a V14 V15 questa sarà probabilmente la V15 o la V16 e ho lasciato questo che è il capitolo della presentazione CCTS dell'11 febbraio 2020 quindi approvata anche un po' di tempo fa l'impostazione è molto simile a quella che abbiamo visto presente nel nel decreto del 2019 con una declinazione della classificazione dell'attività in funzione dell'altezza richiamo chiaramente l'autorazione del rischio di incendio quindi diciamo con la impostazione canonica dell'RTV nel relativamente alla reazione al fuoco nelle aree PA ricordo le aree PA sono comunque gli appartamenti non ci sono requisiti in iniziazione al fuoco andiamo giustamente nelle case delle persone a controllare se utilizzano utilizzano materiali che siano classificati dal punto di vista dell'azione al fuoco che insomma non avrebbe senso non sarebbe nemmeno necessario insomma non essendoci del pubblico insomma ovviamente per quanto riguarda invece la parte della di esodo soprattutto in spazi comuni è prevista comunque ed è importante che ci siano materiali classificati appartenenti al gruppo GM2 di reazione al fuoco quindi che ci sia il minimo di classificazione di reazione al fuoco vedete per la resistenza al fuoco in funzione dell'altezza anche questa HC e della tipologia del compartimento c'è una diversa classificazione della classe di resistenza al fuoco per quanto riguarda la parte di esodo ecco anche in questo caso diciamo che si va si va si va ecco con la capitola S4 del codice con ragionamenti particolari in cui ecco per edifici particolarmente bassi profondi diciamo o particolarmente alti viene richiesta comunque due vie di esodo indipendenti poi pensare come realizzarla queste due vie di esodo indipendenti per quanto riguarda la gestione di sicurezza antincendio ecco il capitolo della gestione di sicurezza antincendio richiama in maniera specifica enfatizzandolo ma anche semplificando il decreto del 2019 prevedendo vari compiti le misure preventive e la pianificazione di emergenza sia in condizioni ordinari sia in emergenza previamente detta con la possibilità di un centro di gestione dell'emergenza in caso di edifici particolarmente alti per il controllo dell'incendio ecco diciamo che in genere fatti salvi edifici particolarmente alti si va abbastanza tranquilli con la semplice presenza degli estintori quindi per la prestazione due è introdotta la possibilità di installare coperta antincendio per consentire l'estinzione dei piccoli cocolai domestici è un ragionamento che è stato fatto vedete soprattutto per attività chiaramente a livelli di altezze maggiori per attività maggiori da HD in su praticamente il livello di prestazione per l'incendio e il 3 quindi sono previsti in aspi praticamente perché siamo comunque all'interno ecco una cosa interessante è questa alcuni di voi l'avranno già notato praticamente la rivoluzione d'allarme le aree delle attività devono essere dotate di consolidazione d'allarme nelle aree TA degli edifici di tipo HHF dove non sono presenti i dirai devono essere previsti rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico e viene specificato come sono fatti questi rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico operatività antincendio chiaramente è importante avere indici molto alti garantire la possibilità che i nostri possano arrivare in luogo e la stessa cosa ecco per la sicurezza di impianti tecnologici lo richiamo alle canne fumarie anche perché spesso ci troviamo di fronte a situazioni di incendio di elementi combustibili negli attraversamenti dei tetti e quindi ecco c'è un richiamo molto generico risposto delle canne fumarie bene io proseguo proseguiamo e parliamo velocemente di facciate e poi vediamo qualche altra cosa sui sui allora quindi questa diciamo questa prima fase abbiamo visto quindi come la norma dei condomini edifici di abitazione si sta evolvendo si è evoluta si sta evolvendo e in quale direzione si va soprattutto enfatizzando sempre di più l'importanza delle misure che siano misure di misure di natura gestionale torniamo adesso ad un aspetto estremamente importante che è quello sempre della costruzione degli edifici e quindi vi parliamo di un aspetto ecco interesse ecogente in questo momento è quello delle facciate degli edifici il decreto del 25 gennaio 2019 diceva anche che parlando di requisiti di sicurezza infincendo le facciate degli edifici di abitazione diceva per gli edifici soggetti di PR 151 quindi attività 77 quindi un'altezza maggiore di 24 metri i requisiti di sicurezza infincendo delle facciate sono valutati avendo come gli obiettivi e dice che gli obiettivi sono gli stessi obiettivi della circolare di CPST 5043 del 2013 adesso ci arriviamo tra l'altro sempre questo articolo 2 dice una cosa importante dice nel memore che venga messa giù un sistema di prova delle facciate che sia coerente con quello che è uno studio che viene passato condotto e sta condicendo a livello europeo le facciate degli edifici possono purtroppo se questo possono che ti attrae l'inganno ma come si dice come dire dico possono se non ci sta se dico utilizzo la possibilità ma se è un'altra alternativa quella possibilità diventa quasi una necessità come potete immaginare ecco possono essere realizzate in conformità alla circolare di CPST 5043 del 15 aprile del 13 quindi non è vero come dice qualcuno che non esiste una norma per le facciate degli edifici perché il decreto del 2015 19 dice guarda per edifici soggetti la prevenzione in centro il DPR 151 quando gli edifici sono nuovi o quando si tratti di edifici esistenti che vengono su cui ci sono interventi di dimensioni maggiori al 50% della facciata dell'edificio eccetera eccetera ecco nelle mole che venga emanata una normativa specifica europea si può fare riferimento alla circolare di CPST 5043 del 2013 ci ho tenuto a tornare su questa cosa perché è molto importante se no sembra quasi che siamo in una condizione di vacanzo legis ovviamente quando usarà la RTV che ci stiamo aspettando la cosa sarà sicuramente a buon fine sarà sicuramente migliore allora quali sono gli obiettivi previsti dalla circolare del 2013 chiaramente alle facciate facciate devono limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio a causa di fiamme e fumicardi che fuoriesca una vani apertura e cavità verticali della facciata quindi primo punto limitare propagazione dell'incendio che si origina all'interno dell'edificio limitare la probabilità di un incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuocamento a origine esterna prima interno poi esterna e poi evitare o limitare in caso di incendio la caduta di parti di facciata che quindi possono creare dei problemi agli occupanti dell'edificio ma anche alle squadre quindi questi sono i tre obiettivi presenti nella circolare 5043 del 2013 i tre obiettivi che poi sono presenti anche nelle rettitudini delle posizioni d'ambito che sta per andare in Europa e che poi sono alla base delle valutazioni che il progettista deve fare per fare in modo che da punto di stare facciate il nostro edificio sia comunque realizzato in maniera opportuna in maniera ecco idonea dice comunque la circolare del 2013 dice per raggiungimento dice ecco il decreto del 2019 chiamato il decreto del 2013 che per raggiungere gli obiettivi rispetto al comma 1 come dicevo prima nelle mole determinazioni di medie di organizzioni sperimentali anche del carattere europeo si può fare riferimento può così dire un riferimento la circolare 5043 ripeto può costituire viene visto come il fatto che non c'è una cogenza ma in realtà se non c'è altro non saprei che cosa dire e inoltre ad esempio la comma 3 dell'articolo 2 viene specificato come dicevo prima che le disposizioni si applicano alle facciate dei figli di realizzazione di realizzazione o anche a quelle che hanno subito interventi per una superficie del 50% ecco un'altra cosa importante le disposizioni non si applicano agli edifici di civile abitazioni per i quali per la data del tradizionale del decreto per 6 maggio 2019 siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato ovvero che siano già in possesso degli atti abilitativi facciati della competente di autorità un'altra abitabilità potrebbe essere anche la scia presentata da noi oppure un letto cp presentata da noi insomma del 2011 ma anche un'autorizzazione di un comune a fare dei lavori e quant'altro questo però è importante quindi le uniche gli unici edifici esclusi sono quelli che al 6 maggio 2019 o erano già a norma o avevano cominciato a fare dei lavori secondo la norma e quindi praticamente tutto il resto comunque deve andare in quella direzione allora la circolare 5043 2013 non è una novità quindi anche in questo caso però abbastanza veloce proprio per dire qualche cosa in più la parte delle novità però è importante capire questa circolare perché perché l'hai detto in chiusura d'ambito che per alcuni è stato un ecco qualche cosa di innovativo su tante cose in realtà è vero che introduce un linguaggio nuovo che è quello del codice alcune valutazioni tecniche nuove perché c'è un riferimento bibliografico importante riportato alla fine a cui si fa il grosso riferimento ma ha un'impostazione che va a seguire per inseguamento quella della circolare 2013 quindi diciamo il punto di partenza è sempre questa circolare quindi se capiamo questa circolare riusciamo a capire bene anche quello che c'è dentro quello che c'è dietro quello che è stato inserito volutamente dall'interno delle reti vu delle chiusure d'ambito circolare 5043 2013 facciata degli edifici documento volontario di applicazione riferito agli edifici in taltezza di incendio superiore a 12 metri quindi documento volontario di applicazione quindi non ha carattere di cogenza ma come potete immaginare non esistono lo vedremo anche dopo non posso rendere cogenza una circolare carattere di cogenza è vero che noi facciamo norme e secondo il decreto legislativo 139 di MSI le nostre norme hanno carattere di cogenza quando parliamo di provincia di incendio ma una circolare sicuramente non ha carattere di cogenza una circolare in genere ha un carattere di indirizzo soprattutto per per le nostre strutture territoriali che devono andare a fare delle valutazioni poi chiaramente direbbe qualcuno è normale che ci sia poi una ecco una condivisione anche da parte dei professionisti professionisti ovviamente quando va a fare la sua progettazione se ci sono degli indirizzi di maggior dettaglio forniti ai nostri circolari cerchia di osservarli più che altro per avere anche un'interpretazione autentica di certe ma anche per facilitare più semplicemente il suo lavoro allora non ci fermiamo per capire cosa dobbiamo facciare abbiamo detto comunque il documento formativo di applicazione volontaria che si applica di di giudiciamente il documento è organizzato in obiettivi definizione e classificazione requisiti di resistenza a fuoco e compartimentazione con la verifica di resistenza a fuoco reazione a fuoco e sicurezza delle squadre al corso vedete sono pochi punti anche se noi volessimo riportare l'impostazione delle misure del codice sono veramente pochi punti perché l'interesse che c'è da parte del progettista e quindi viene esaltato nella norma da chi mette in giro la norma quindi dal normatore è proprio quello di intervenire per evitare la propagazione dell'incendio all'interno dell'edificio la propagazione dell'incendio all'esterno verso l'interno e poi il discorso dell'esodo degli occupanti non ci soffermiamo sulle definizioni sappiamo tutti ormai sono diventati tutti esperti di facciata sempre facciata a doppia parete facciata continua facciata a doppia parete ventilata non ispezionabile ispezionabile ecco giusto da un'idea lo metto giusto per un addetto ai lavori abbiamo un'idea di una facciata a doppia pelle vedete qua la doppia pelle una facciata a doppia pelle con colline praticabile dove ci passano anche delle persone ma queste ormai partengono ormai anche a una gasistica che sta passata sicuramente di moda perché ormai si trovano cose anche più graziose cose insomma anche più moderne e che non cambiano queste specificità bene in generale quindi nella facciata c'è il problema della propagazione di un incendio dal piano in cui si sviluppa al piano superiore mediante la funguita di piano esterno noi recentemente abbiamo fatto una prova su andiamo nella nostra struttura di Montelibretto a Roma costruita una facciata di quasi nove metri praticamente su questa facciata stiamo facendo con una camera di combustione di certe dimensioni che sono consono a quelli degli standard europei e stiamo facendo una serie di prove non più tardi di martedì scorso ma fatto ieri insomma praticamente abbiamo fatto una prova abbiamo vicendiato una ecco la questa facciata con coperta di prodotti che è molto specifico perché ci stiamo ancora lavorando e abbiamo notato un certo tipo di comportamento la cosa particolare qual è che ovviamente quando faremo girare i filmati di queste prove li faremo sicuramente renderemo sicuramente noti di renderete conto che ecco sicuramente ecco la con carichi di incendio importanti noi siamo arrivati con un carico di incendio fino a 5 megawatt una cosa da poco praticamente con un carico di incendio quindi un'energia fino a 5 megawatt abbiamo notato praticamente che si arrivava a temperature anche importanti che toccavano anche i 700 o 750 gradi ecco qua vedete alcuni esempi di incendi di facciata e ovviamente l'estensione e la posizione delle fiamme in presenza di un oggetto orizzontale sopra la finestra fa cambiare praticamente la 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 posizionamento della fiamma come pure la fiamma praticamente vedete viene trascinata se c'è una facciata ventilata una facciata che fa in modo da quasi da indirizzare da fare da da corrigoglio privilegiato per far passare la fiamma ora sulla base di queste valutazioni è stata fatta questa circolare sulla base di valutazioni che stiamo facendo adesso abbiamo messo giù la retributa e la chiusura d'ambito e abbiamo anche migliorata facendo delle 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 valutazioni che 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 sicuramente vedono danno molto importanza alla parte sperimentale vi dico subito che la circolare 2013 è una circolare che non prevede requisiti di resistenza al fuoco per le facciate con un carico di 100 meno o uguali a 200 megagioli al metro quadri negli altri casi vengono date delle indicazioni su come fare in modo da bloccare il passaggio del fuoco da una parte all'altra c'è comunque uno studio ecco che tenga conto del fatto che si fa riferimento non alla curva standard questa la curva 1 che vedete su dell'incendio ma la curva dell'incendio esterno praticamente la curva 2 e quindi ci troviamo una situazione di questo tipo in cui abbiamo un incendio che dall'interno verso l'esterno è un incendio che dall'esterno può entrare verso l'interno del nostro edificio quindi vedete questa c'è questa doppia situazione per cui nella simulazione dell'incendio di questo incendio si deve tenere conto di queste due curve in funzione di quale parte dell'incendio stiamo andando a simulare di conseguenza ecco troverete lo sapete l'avete sicuramente notato una diversa classificazione che viene contro il fatto che si è andato verso una curva di incendio esterno con la digitura EF oppure una classificazione di prestazione nei confronti della direzione di attacco termico dall'interno verso l'esterno IO o dall'esterno verso l'interno OI quindi input output output input oppure tutte e due le parti questo è importante questa premessa perché mi consente di poter leggere poi la circolare e di riportare comunque degli elementi che sono comunque interessanti per quanto riguarda le caratteristiche della facciata stessa ecco sono riportati poi dei valori di classificazione di reazione a fuoco dei materiali praticamente presenti nell'intercapelline in genere diciamo un light motif è questo valore UBS3D0 che è un valore abbiamo visto che come classificazione del materiale isolante è molto diffuso anche a livello europeo sono pochissime delle nazioni in cui si parla di A1 o A2 come classificazione dell'isolante quindi quelli diciamo materiali incombustibili perché in genere anche materiale leggermente combustibile utilizzate in kit con certe caratteristiche avevamo notato che stiamo ancora studiando anche questa cosa potrebbe poter vedere la circolare prevede anche delle misure alternative che sono quelle dell'utilizzo di sistema di spegnimento automatico con acqua anche questa misura poi vedremo tra un attimo riportata nella RTV e anche a ulteriori misure di protezione attiva per esempio rappresentate da sistema di rotazione dei funi non mi soffermo tanto su questa cosa perché ecco sono cose che abbiamo già visto però servono per comprendere bene anche le RTV delle chiusure d'ambito chiaramente alla verifica requisito di resistenza a poco la circolare ci dà via possibilità o un metodo basato su prove e quindi ci sono le norme di prova che possono essere a riferimento o un metodo basato su calcoli e tabelle un po' più immediate però non sempre utilizzabili perché ci sono degli elementi di facciata per i quali non esistono praticamente delle tabelle che possono comunque essere utili per fare le valutazioni necessarie queste sono le prove fatte al forno di capannelle e prova di resistenza a fuoco di elementi non portanti che servono poi comunque per dare per consentire di dare delle valutazioni relativamente alla reazione a fuoco vi dicevo i prodotti isolanti che sono presenti in facciata secondo la circolare devono essere almeno di classe 1 in reazione a fuoco classe 1 la classe italiana B S3D0 secondo la classe europea praticamente la particolarità di questa classificazione è che noi stiamo lavorando per avere un metodo di classificazione delle facciate italiano grazie anche al supporto di tutti i secondi che ci sono di questo metodo italiano ad oggi come potete immaginare mentre abbiamo metodo di classificazione per prodotti per reazione a fuoco per prodotti posti all'interno dei locali insomma con le donne sedie materassi divani eccetera eccetera la parte esterna diciamo ci stiamo ancora lavorando però siamo in una buona strada la cosa importante è che la circolare questo verrà ribadito anche ci dà la possibilità di andare fino alla classe E classe 1 classe B S3D0 di reazione a fuoco ecco relativamente alla classificazione a fuoco diciamo all'epoca nel 2013 era ancora una novità perché si parlava ancora poco di classificazione europea oggi con regolamento per la costruzione diciamo che tutti per la costruzione hanno tutti una marcatura C e sono tutti ben quelli che hanno una mamma di riferimento e quindi abbiamo tutta una classificazione europea ecco la norma esclude alcune tipologie di materiali di prodotti che per la classificazione di reazione a fuoco che sono guarnizioni sigillanti materiali tenuta occupano una superficie superiore al 10% altri componenti di facciata gli elementi in vetro staffe perni eccetera diciamo tutte quelle cose che si presume che non dovrebbero dare un grosso contributo in caso di incendio alla propagazione dello stesso e quindi non dovrebbero servire tanto alcuni da classificazione di reazione a fuoco un altro problema importante delle facciate anche questo riportato nella retribute delle chiusure d'ambito che vedremo tra un attimo è il problema dei facciati che si intersegano e che sono una dirimpetta all'altra e quindi va ridotto il rischio di propagazione orizzontale e quindi c'è una valutazione della distanza della facciata all'altra diciamo che ormai con l'approccio codice se andate a valutare le state di separazione la metodologia che capite volesse fare il codice sono ritrovati già bene però all'epoca questo è un approccio innovativo e soprattutto ha portato alla necessità di fare un certo tipo di valutazione prevedendo delle tasche di materiale incombustibile l'ultima cosa è l'esodo degli occupanti ecco attenzione uno degli effetti che abbiamo sulle facciate è proprio il discorso una volta abbiamo assodato che è la facciata che è la facciata ecco ha adeguato livello che ha adeguate caratteristazioni di resistenza a fuoco e di reazione a fuoco un altro aspetto importante rappresentato dal fatto che non ci siano comunque cadute di parti fragili che possono dare luogo a rotture di stacchi di parti non mute e quindi tener conto del fatto che la presenza di caduta di questi elementi può comunque comportare non poche problematiche per gli occupanti dell'edificio ma anche per i soccorritori che devono intervenire ecco presso la facciata perciò i cardini della progettazione antincendio che hanno contenuto nella guida tecnica sono sono stato abbastanza veloce perché non si tratta di una cosa nuova e mi serviva per capire meglio alcune cose sulla norma che stiamo mandando in Europa sicuramente la scelta di materiali idoni ai fini della propagazione a fuoco quindi vado a scegliere materiali che non contribuiscono molto alla propagazione dell'incendio i requisiti dell'esistenza al fuoco e di compartimentazione degli elementi di una facciata chiaramente si esaltano le compartimentazioni questo è un altro elemento che porta comunque ad una veloce propagazione dell'incendio e misure che sono connesse all'esito degli occupanti e alla sicurezza dei squadri soccorsi questi sono i tre elementi e con questi tre elementi praticamente attenzionando questi tre elementi si riescono a soddisfare i tre obiettivi che abbiamo messo abbiamo visto nella primissima slide che sono gli obiettivi fondamentali della RTV sono anche gli obiettivi fondamentali sono gli obiettivi dell'eclusione d'ambito infatti anche in questo caso non è il Q12 questo Q12 è come è stata approvata questa RTV approvata a giugno di quest'anno ma ecco una prima cosa abbiamo cambiato il nome tolto facciate e parlato di chiusure d'ambito degli edifici civili perché perché non c'è un interesse soltanto per quello che diciamo è il contenito quello che diciamo avvolge il contenitore ma c'è un interesse anche per per esempio per le coperture per i tetti quindi in verimento anche richiamo anche la norma sulla caratteristica degli impianti fotovoltaici posti su tetti di edifici e quant'altro quindi anche la sicurezza di tetti protovoltaici e quindi di tutte quelle che possiamo genericamente chiamare chiusure d'ambito degli edifici civili ora quella che andiamo a vedere qua è ancora una volta un ecco è il documento tenete conto un documento che va in Europa prima che vada in Europa e anche dopo che è tornato soprattutto ci sono osservazioni a livello di altri paesi dell'UE il documento è comunque un documento prima di andare a rifare il ministro comunque avviene comunque valutato può essere comunque rivalutato può essere comunque per conto delle osservazioni che 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 pervengono quindi anche anche questo in questo caso non è il caso precedente quello che di cui si vede quello di cui parliamo è una bozza di di regola tecnica verticale eh regola tecnica verticale che non viene in bozza fin quando non viene pubblicata non potete immaginare perché fin quando non viene firmata dal ministro poi non viene pubblicata ecco è sempre comunque una bozza quindi soggetta magari a delle a delle a degli aggiornamenti quello che mi premeva a mettervi in evidenza soprattutto questo ecco ehm come nasce la retributia delle chiusure d'ambito e da dove nasce abbiamo detto sicuramente il punto di partenza della lettera circolare 5043 del 2013 ma poi ci sono anche documenti della UE e della Commissione Europea eh su questo argomento pubblicazioni internazionali eh che eh ci hanno dato la possibilità comunque di eh approfondire problematiche che eh a noi note però che meritavano una sicuramente un approfondimento ecco eh meritavano comunque di di essere maggiormente maggiormente approfondite ma oltre che approfondite anche eh riportate attualizzate ecco questo termine giusto forse al al linguaggio all'impostazione del codice di prevenzione in centri scusate va bene mi è saltato un pezzo comunque eh giusto per darvi un'idea poi passiamo agli altri due argomenti ehm qual è l'impostazione che è presente nella RTV eh del delle chiusure d'ambito abbiamo detto che anche in questo caso c'è una classificazione eh una classificazione che eh tiene conto come per edifici di abitazione dell'altezza dell'edificio il problema quindi è sempre un problema legato a alle dimensioni dell'edificio e al fatto che un edificio particolarmente alto ha bisogno di una maggiore protezione rispetto ad altre tipologie di edifici sulla base di questa considerazione sono state praticamente eh introdotte delle misure di reazione al fuoco di resistenza al fuoco e misure che tengono conto come abbiamo visto nella eh nella circolare del 2013 nel diciamo che fornire garanzie in maniera tale da evitare che dei crolli potessero inficiare la 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 le caratteristiche del 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 anche anche la capacità di esodo o la capacità di intervento dei soccorridori ehm la la una cosa importante che troverete nel nella 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 RTV sarà proprio il fatto di eh di ehm trovarci praticamente eh questa questa eh declinazione delle esigenze eh in funzione del dell'altezza e troveremo anche troverete anche praticamente eh misure mutuate della circolare del 2013 ehm scritte modalità codice eh andando a prevedere comunque eh livelli di prestazione per esempio per la reazione a fuoco eh link che vanno a arrivano fino a CM2 praticamente eh ma anche eh misure che prevedono la 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 presenza di di fasce di separazione di dimensioni di un metro che vanno a garantire la le caratteristiche vanno a garantire praticamente la 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 le le compartimentazioni che esistono tra una parte e l'altra del dell'edificio eh non non mi soffermo più di tanto perché ripeto eh questa RTV è un RTV che in questo momento visto molti si sono addentrati anche a fare presentazioni a parlarne però vi ripeto rischiamo di dare delle informazioni che non sono corrette perché è ancora un documento che deve andare in Europa e quindi diciamo la logica vorrebbe che prima che vada in Europa eh ecco può subire ancora delle modifiche anche modifiche sostanziali che rischiamo praticamente di dare informazioni comunque sbagliate direi che oggi il progettista comunque non ha niente ha comunque la circolare eh cinquanta quarantatré del duemilatredici e con quella circolare comunque può intraprendere una metodologia di progettazione delle facciate degli edifici per i quali vengono potenzialmente possono essere fatti degli interventi e eh e chiaramente e chiaramente eh andando a perseguire quei tre obiettivi che ci siamo che ci siamo detti eh anche perché e questo è l'ultimo punto e poi passiamo agli altri due argomenti eh fate una riflessione pensate la RTQ è una regola tecnica verticale scritta quella traduzione scritta in linguaggio codice che vale con le attività che è in grado nel campo di applicazione del codice ed oggi per esempio gli edifici di abitazione ecco perché si muovono di pari passo per le TV edifici di abitazione e le la e le TV di usure d'ambito per esempio i edifici di abitazione non rientrerebbero perché non sono nel campo di applicazione del codice io direi eh passerei adesso non so se eh ditemi se è prevista una pausa o facciamo un unico un unico un unico giro se posso avere la parola posso avere la parola mi sentite sono collegato benissimo ecco ma allora abbiamo iniziato alle di fatto alle tre quindi se lei ingegnere gradisce fare una pausa la facciamo se no noi andremo anche avanti fino all'intervallo lo facciamo quando poi parlerà l'ingegnere De Rosa però decida lei allora mi dia un tempo ma sì ma finisca pure l'intervento ma scelga lei ecco scelga lei ma no allora ho ricevuto un un numero costituito di telefonate però se lei mi dà un tempo io riesco riesco qui dovrei dovrei anche rispondere però facciamo così se voi mi date un tempo che ne so un quarto alle cinque cioè dice fino a un quarto alle cinque va bene fino a un quarto alle cinque e dopo lei chiude l'intervento va bene va bene per me va bene va bene quindi un'altra mezz'ora diciamo da adesso un'altra mezz'ora ce la dovremmo fare benissimo ci siamo fin qua mi state seguendo sì dai purtroppo è il fatto di essere di essere a distanza insomma crea crea un po' di non fa comprendere tante cose un secondo ingegnere scusi c'è un quesito che magari può servire per perché credo che mi stiano chiedendo per il discorso lana di vetro a livello di cappotti un attimo ecco parla l'ingegner Limoni di Verona mi scusi per entrare nel pratico visto anche la questione cappotti legata alle riqualificazioni energetiche incentivate da super bonus o altri incentivi che ci sono in essere il materiale del cappotto lana di vetro lana di roccia polistirene stiferite quali di questi materiali giusto per entrare nel caso pratico posso usare rispettando la circolare per quel requisito di reazione al fuoco prevista dal cappotto guardi io l'ho detto e forse non l'ho enfatizzata questa cosa attualmente la circolare parla di requisito di reazione al fuoco B quindi praticamente se sicuramente lana di vetro lana di roccia la B ce l'hanno sicuramente gli altri potrebbero averli se sono utilizzati in kit certificati per avere quel requisito di reazione al fuoco magari che ne so anche utilizzando prodotti che di per se stessi da soli hanno requisiti di reazione al fuoco diciamo più bassi però magari in kit montati in una certa maniera con presenza magari di un tonachino o qualcosa di questo tipo comunque si riesce a pervenire agli stessi almeno alla classe B di reazione al fuoco l'importante ripeto ingegnere che chi ha venduto il prodotto le dia una certificazione tale che sia rientri in quella che è la prestazione minima prevista dalla circolare che abbiamo visto essere BS3D0 praticamente bene grazie c'è un altro intervento sì solo una domanda mi leggo alla domanda dell'ingegnere dell'ingegnere quindi parlava di una classificazione dei materiali isolanti BS3D0 in caso di facciate ventilate invece come ci dobbiamo comportare per quanto riguarda il pannello esterno anche il pannello esterno comunque deve garantire certi livelli di prestazione soprattutto il pannello esterno deve essere montato in maniera che sia comunque conforme alla modalità di prova del pannello stesso nel senso che se il pannello è stato provato in molti casi che cosa succede? succede che si va verso pannelli esterni che vengono montati in maniera di forme alla modalità con la quale sono stati provati magari un pannello garantisce certe caratteristiche magari che ne so di reazione a fuoco se è montato in adiacenza ad un supporto se io non lo monto in adiacenza ad un supporto magari montato su un muro perché il fuoco gli arriva solo su una faccia riesce a comportarsi in una certa maniera se lo monto in maniera tale che il fuoco può aggredirlo ad ottenere le facce il pannello si comporta in maniera diversa quindi sono valutazioni voi tecnici comunque dovete stare molto attenti a quello che vi viene proposto soprattutto a leggervi bene le certificazioni che vi vengono proposte perché se no si rischia praticamente di prendere degli abbagli e poi di non avere poi le prestazioni per le quali è stata fatta la progettazione bene allora per noi può proseguire ingegnere grazie allora parliamo di fotovoltaici allora pianti fotovoltaici diciamo che è l'ultima 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 guida che abbiamo messo giù del 2012 ed è una guida da 13-24 del 7 febbraio del 2012 la quale guida dice che bene è una guida anche in questo caso una linea guida non ha carattere di cogenza lo richiediamo anche in questo caso e però può indirizzare le valutazioni dei nostri colleghi e sicuramente può dare degli indirizzi anche ai progettisti per la progettazione infatti quando è stata presentata questa guida nel 2012 stiamo parlando di un periodo che era stato il periodo d'oro dell'installazione di impianti fotovoltaici tra gli anni 9-10-11 praticamente nel anno del 2011 periodo d'oro ma anche il periodo in cui avevamo avuto una marea di problemi una marea di problemi relativamente agli incendi di impianti fotovoltaici ecco la guida rappresenta uno strumento di indirizzo che non limita le scelte progettuali inoltre la guida individua alcune soluzioni che sono utili per il perseguimento degli obiettivi di sicurezza dettati dall'allegato 1 del regolamento E305 del 2011 quindi del regolamento prodotto da costruzione e la guida dice anche guarda è possibile individuare anche mediante la protezione dei rischi delle soluzioni alternative a quelle che saranno vedremo fra un attimo sono presenti all'interno della guida però ecco vanno comunque fatte una serie di valutazioni una serie di considerazioni allora abbiamo detto alla base della guida c'è proprio il regolamento E305 del 2011 il quale quando parla all'allegato 1 requisito numero 2 sicurezza in caso di incendio del periodo di costruzione dice che la capacità portante deve essere garantita per un periodo determinato deve essere limitata la generazione della propagazione del fuoco del fumo deve essere limitata la propagazione del fumo delle opere di costruzione vicine deve essere garantita la sicurezza degli occupanti fuori o dentro l'opera e infine deve essere garantita la sicurezza delle squadre di sottorso oltre ai principi del regolamento E305 del 2011 sicuramente la nostra guida ha guardato delle norme tecniche in particolar modo le norme tecniche del Comitato di Alte Tecnico italiano quindi la guida C825 e la C648 allora veniamo subito alla circolare così capiamo subito che cosa abbiamo scritto e perché abbiamo scritto certe cose questa è l'impostazione premessa campo l'applicazione requisiti tecnici caratteristiche documentazione verifica segnaletica salvaguarda gli operatori impianti esistenti ad allegati allora la prima cosa che dobbiamo dire è questa signori gli impianti fotovoltaici non sono attività soggette che è un problema che vince il fuoco perché non rientrano direttamente nella legatura DPR 151 d'altra parte l'installazione dell'impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede comunque di dar corso ad alcuni degli adempimenti del DPR 151 del 2011 quindi primo punto attività non soggetta secondo punto nonostante attività non soggetta bisogna dar corso agli adempimenti DPR 151 allora quando quando è a servizio che significa che l'attività è a servizio diciamo che un impianto fotovoltaico è a servizio di un'attività soggetta quando un impianto fotovoltaico è tale che può avere comunque ecco può dare comunque cioè all'inizio sembrava a servizio sembrava siccome se c'è un'attività industriale se l'impianto fotovoltaico produce energia per quell'impianto fotovoltaico è a servizio invece no abbiamo chiarito poi sempre nel 2012 che un impianto fotovoltaico che è un impianto fotovoltaico che l'intento è a servizio di un soggetto se gli impianti se i moduli dell'impianto ricadono anche parzialmente nel volume delimitato dalla superficie cilindrica verticale mentre come generatrice le proiezioni impianti e fabbricato inclusi aggetti esporti di grado quindi praticamente vuol dire che ci troviamo all'interno di questa situazione quindi l'impianto fotovoltaico è a servizio se il pannello se il modulo può comunque avere degli effetti sull'edificio anche se non è collocato sull'edificio stesso perché vi dicevo che se a servizio vanno comunque dato va comunque dato corso pur non essendo un'attività soggetta agli adempimenti previsti al DPR 151 perché l'introduzione dell'impianto fotovoltaico a servizio dell'attività soggetta può rappresentare una modifica ad un'attività stessa se vi ricordate il DPR il DPR 7 agosto 2012 fa introduce per la prima volta in maniera esorstiva la gestione delle modifiche e dice guarda le modifiche possono essere di due tipi modifiche non rilevanti a prima sicurezza di ingegno e modifiche rilevanti a prima sicurezza di incendio le modifiche rilevanti a prima sicurezza di incendio sono modifiche che possono presentare un aggravio di rischio o un non aggravio di rischio qual è la differenza tra queste tre situazioni? se la modifica è una modifica non rilevante viene gestita con l'articolo 4,8 cioè quando fai il rinnovo mi comunichi che hai fatto questa cosa se la modifica è rilevante e il nostro progettista fa una dichiarazione di aggravio di rischio se è un'attività in categoria B e C va presentato l'esempio del progetto e poi la sciglia se invece c'è un aggravio di rischio il nostro progettista deve presentare a prescindere che sia A, B o C a nostra attività esclusivamente la scia ora l'allegato 4 del PM 7 costi 1 e 12 distingue tra modifiche rilevanti e non rilevanti a prima sicurezza di incendio l'azione all'aggravio e all'aggravio di rischio è un compito specifico del progettista graditere questo documento e far ridurre le sue domande azioni quindi mentre il normatore ci dà una mano a capire se la modifica è rilevante o rilevante per l'aggravio di un aggravio sarà importante l'intervento del progettista qua vedete insomma quello che si stava dicendo prima perché è una modifica rilevante l'impianto fotovoltaico l'impianto fotovoltaico è rilevante perché senza l'allegato 4 nel DM 7 agosto comporta un incremento della potenza una modifica sostanziale della tipologia delle IAP dell'impianto può comportare modifiche funzionali per la compartimentazione antincendio pensate che cosa può succedere se io piazzo un impianto fotovoltaico tra due compartimenti che sotto sono separati e sopra praticamente non sarebbero più più separati sul tetto e poi una modifica alle misure di protezione per le persone quindi modifica dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori allora diciamo subito che in via generale l'installazione di un impianto fotovoltaico in funzione delle caratteristiche elettriche costruttive delle relative modalità di posinopera può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio come faccio a valutare se l'installazione eseguisce un aggravio per decidere sull'aggravio bisogna valutare alcune cose quali sono queste cose l'interferenza con il sistema di ventilazione prodotte della combustione quindi per esempio l'ostruzione parziale totale di trasluci di impedimenti per i telelocutori la sicurezza degli operatori addetti alla non intenzione la propagazione delle fiamme dall'esterno o verso l'interno del fabbricato la presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato di un riviso in più compartimenti può modificare può portare praticamente a questa propagazione e infine la sicurezza degli addetti all'operazione di soccorso del pericolo della protezione quindi attenzione abbiamo detto che l'impianto prodottaico è scusatemi mi fate pari interazione che il capo mi sta chiamando posso gentilmente mi scusate certamente certamente certo certo grazie a tutti Grazie. 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 Se posso avere la parola anche per chi ascolta online. Ah è arrivato. Ecco è rientrato l'ingegnere. Benissimo. Allora prego prosegua pure ingegnere. Non so se ha l'audio attivo. Ok perfetto. Mi chiedo scusa ma quando chiama il capo in diretta. Il bello della diretta. Uno si ritaglia due ore però insomma. Ecco mi dispiace insomma per per aver interrotto. Ecco quindi la cosa importante qual è? Allora abbiamo detto faccio un piccolissimo passo indietro. Abbiamo detto guardate eh eh pannello l'impianto fotovoltaico rappresenta una modifica eh sostanziale eh dal punto di vista della 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 eh sicurezza antincendio. Quindi rientra abbiamo detto tra quelle modifiche che devono essere trattate con agravio e senza agravio e rischio perché perché andando a vedere l'allegato quattro del dm 7 agosto 2012 le modifiche sono modifiche a layout a alla potenza installata alla complattimentazione eccetera eccetera sono modifiche che si portano verso una modifica sostanziale. Eh d'altra parte quali sono gli elementi che ha il progettista per capire se questa modifica sostanziale è una modifica con agravio senza agravio e rischio. Bene deve fare delle valutazioni che si basano su questi quattro elementi che sono l'interferenza di un sistema di ventilazione dei prodotti, la sicurezza degli operatori, la propagazione delle fiamme e la sicurezza che si ha detto l'operazione di soccorso. Ehm eravamo arrivati al campo di applicazione. Il campo di applicazione è ehm è praticamente ehm rientrano al campo di applicazione gli impianti fotovoltaici con una tensione in corrente continua non superiore a 1500 volt e ehm e quindi le prime misure di prevenzione incendi che sono che tutti i componenti devono essere conformi con l'isposizione comunitaria o nazionale applicabili, gli impianti fotovoltaici devono essere progettati, realizzati e manutenuti a regola d'arte. Sempre la nostra guida ci dice che ehm ecco abbiamo detto quali sono gli elementi per la valutazione da parte del tecnico, l'installazione dell'impianto deve essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore al fabbricato. Quindi stiamo parlando di requisiti tecnici ma ancora di di eh di diciamo di prestazioni. Qual è la soluzione? Soluzione potrebbe essere quello di avere un generatore installato su strutture di copertura di facciata che siano incombustibili oppure interposizione tra mobili fotovoltaici e piano di appoggio di uno strato di materiali di resistenza al fuoco che è almeno di trenta ed incombustibile classe zero oppure classe uno secondo la classificazione europea. soluzioni alternative che devono essere in due lato della valutazione del rischio tenendo conto quindi del regolamento CPR quindi tengono conto di soluzioni alternative della classe di resistenza al fuoco agli incendi esterni dei tetti e delle coperture poi vedremo di ruffo eccetera 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 della classe di reazione a fuoco dei moduli secondo praticamente il decreto 10 marzo 2005 quindi classe di reazione a fuoco prodotta e costituzione. quindi abbiamo le soluzioni conforme generatore installato su strutture di copertura di facciata di combustibile o interposizione di materiali almeno ai trenta ma poi anche le soluzioni alternative che possono essere formite tenendo conto della classe di resistenza al fuoco del tetto e della classe di reazione a fuoco del pannello quindi di questo accoppiamento tetto pannello. e allora vengono fuori questi elementi che sono poi hanno fatto parte dei chiarimenti alla guida 1324 del 7 di febbraio 2012 avremo caso 1 con installazione su strutture di elementi di copertura di facciata in combustibile caso 2 interposizione tra moduli fotovoltaici e il piano di appoggio di uno strato di materiali di resistenza al fuoco almeno ai trenta di combustibile caso 3 valutazione del rischio con un caso 3A in cui c'è una valutazione del rischio di incendio che tiene conto della classe di resistenza al fuoco agli incendio esterni dei tetti e delle coperture dei tetti e della classe di reazione a fuoco del modulo fotovoltaico e di un caso attribuito a una valutazione del rischio ad hoc finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del regolamento E305 del 2011. nel caso 3A abbiamo detto caratteristiche dei tetti e caratteristiche poi dei pannelli che ha adesso la reazione a fuoco dei pannelli con una classificazione del pannello che può essere fatto anche dai laboratori autorizzati secondo una risoluzione che fu fatta dall'allora area 5 della DCPST nel 28 marzo 2012. Qua la vedete questa risoluzione che dava delle indicazioni su questa cosa qua. Qua vedete i casi in cui le cose non hanno funzionato perché c'è stato comunque un principio di incendio che si è propagato poi all'interno. infatti una cosa importante è avere grossa attenzione all'elemento di copertura dei traslugidi soprattutto quando non sono marcati CE perché ci potrebbe essere un problema di ingocciolamento e di propagazione soprattutto dall'alto verso il basso e anche l'ingocciolamento dei traslugidi di CE anche queste sono valutazioni da fare soprattutto se il parametro D0 del traslugido non va bene. quindi dopo aver fatto la valutazione del rischio vediamo alcune soluzioni che sono possibili ecco impostazione un metro di distanza tra i componenti del generatore e di eventuali prodotti di fumo e calore per consentire il corretto funzionamento e la manutenzione un metro dalla proiezione dell'elemento di compartimentazione antincendio sottostante qua vedete queste situazioni ecco disponibilità di un dispositivo di comando di emergenza che sia ubicato in una posizione segnalata ed accessibile che determini il sezionamento dell'impianto elettrico all'interno del compartimento fabbricato nei confronti di tutte le sorgenti di alimentazione e di compreso l'impianto fotovoltaico questo serve soprattutto per garantire l'operatore del soccorso quando interviene questo dispositivo deve essere in grado di sezionare il generatore e deve essere ubicato in posizione segnalata ed accessibile installazione della parte in corrente continua dell'impianto all'esterno di zone Atex quindi troverete magari pannelli fotovoltaici anche in prossimità di che ne so, di colonnine di istituzione carburante però li troverete al di fuori della zona Atex installazione, ecco, componenti di corrente continua che sono fonti di mesco lontani da luoghi con presenza di materiale esplodente quindi non Atex come in caso precedente ma proprio in presenza di materiale che possa esplodere e poi, ecco, nel caso in cui il pannello si è installato sulle strutture portanti di un fabbricato deve essere comunque riverificata la struttura portante per vedere se le prestazioni sono rimaste le stesse e tutto va fatto facendo riferimento a quelle che sono le norme tecniche sulle costituzioni salvaguarda degli operatori di soccorso per gli operatori WF vale la circolare 2011 che dà indicazione e procedure in caso di intervento in presenza di pannelli fotovoltaici abbiamo fatto anche delle prove in campo e vi dico che utilizzando dell'acqua sul pannelli praticamente si riesce comunque a garantire che non ci siano problemi particolari se io utilizzo l'acqua ad una distanza di 4-5 metri il rischio contatto diretto è un rischio che c'è soprattutto per l'operatore del soccorso quando c'è un crollo parziale del pannello e quindi c'è comunque da stare attenti se c'è un crollo parziale il sistema del pannello è regolante un sistema IT può diventare un sistema di IT e creare una serie di altre problematiche bene quindi quello che possiamo praticamente verificare è che la presenza vedete di eventuali sistemi che intervengono per mettere in corto stringhe e altre cose è sicuramente un qualche cosa che ci può essere utile per evitare che il rischio di folgorazione sia un rischio importante una cosa che volevo evidenziarvi è questo che la grossa attenzione che deve esserci verso l'impianto fotovoltaico soprattutto legata al fatto che questo impianto non deve costituire rischio di propagazione di un incendio per esempio dall'alto dall'esterno verso l'interno un'altra valutazione la farei per quanto riguarda le colonnine di ricarica vi ricordo che c'è una nostra circolare del novembre 2018 che dà indicazione per l'installazione di colonnine di ricarica anche all'interno di attività soggette ai nostri controlli e noi consigliamo fortemente nell'attività soggette ai nostri controlli di utilizzare colonnine con modo di carica tre o quattro quindi colonnine di ricarica cosiddette intelligenti che ci danno la possibilità di riuscire comunque a garantire un livello di sicurezza abbastanza adeguato ovviamente sulle colonie di ricarica anche in quel caso abbiamo delle linee guida non abbiamo delle norme sarà poi il caso magari ecco su tutte queste nuove tecnologie comunque arrivare anche a un livello di informazione per garantire poi un livello di sicurezza accettabile per tutti e anche all'interno dei condomini anche all'interno delle nostre attività anche all'interno dei nostri casi io purtroppo vi devo lasciare perché mi stanno veramente tempestando di telefonate per una serie di problemi organizzativi e magari ecco se riesco poi magari se è possibile alla conclusione dell'intervento dell'ingegnere De Rosa mi ricollego per ricevere anche le vostre domande magari dirvi qualche altra cosa grazie e lascio la parola all'ingegnere Albertini scusandomi ancora grazie grazie ingegnere del suo contributo bene allora facciamo un piccolo intervallo e se mi sta già ascoltando l'ingegnere De Rosa chiederei di attendere a questo punto cominciamo alle 5 in punto alle 17 in punto andremo un po' più lunghi cercheremo un po' tutti di essere un po' rapidi in questa pausa che facciamo e poi anche all'ingegnere De Rosa se già mi sta sentendo chiedo già di l'ascolto non so se lei l'ascolta meglio eccomi qui bene bene grazie dopo ci salutiamo meglio e chiedo già di mettersi nell'ordine delle idee di poter un pochettino accelerare poi il suo intervento ma non in misura tale da compromettere chiaramente la buona riuscita buonasera intanto la saluto dopo ci ci rivediamo con un po' di calma alle 17 grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.